Ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati sul mio canale, io sono Rick e oggi volevo tornare a proporvi, visto che gli ultimi video sono stati di gameplay, un video di unboxing. Sono due oggetti che volevo già presentarvi, proporvi qualche tempo fa, parecchio tempo fa perché li ho comprati parecchio tempo fa appunto, però come spesso mi succede io compro le cose però nel marasma di cose da fare succede che queste cose vengano portate più avanti più avanti più avanti quindi alle volte non riesco neanche ad aprirle. Quindi oggi sono qui a proporvi la guida ufficiale di Pokémon X e Pokémon Y e il Pokédex. Allora vi chiederete magari perché, a parte che comunque sono già uscite da parecchio, però volevo comunque proporvele perché appunto le apro adesso e quindi io le ho comprate qualche mese fa. Come mai dicevo? Perché io non mi sono mai avvicinato alla serie Pokémon, non li ho mai giocati, però quest'anno ho detto ma sì dai, ho trovato il gioco a un buon prezzo l'avevo trovato scontato e allora ho detto ma sì prendiamolo, ho preso Pokémon Y, mi piaceva di più il colore e quindi ho deciso di avvicinarmi per la prima volta a questa serie e appunto per questo ho creduto che fosse interessante anche per capire meglio il gioco così avere una guida e quindi la guida ufficiale della regione di Kalos e poi anche la guida il Pokédex e la guida d'avventura dopo la storia principale. Siccome so che comunque nonostante quello che si pensa sono titoli parecchio profondi e l'ho potuto constatare perché comunque ho iniziato a giocarci, ho iniziato a giocare a Pokémon Y e ho visto che comunque è un bel titolo, bello corposo da qui infatti il successo che ha avuto la serie e i voti alti che ha sempre meno male preso quindi ho deciso insomma di comprarle e di vedere se mi possono dare qualcosa o comunque un supporto che sicuramente mi daranno perché ripeto è la prima volta che mi avvicino a questo tipo di gioco allora partiamo subito con la guida, si trovano entrambe 20 euro allora ok dai tac, apriamolo col tagliarino come fossimo il gecko e lo squartatore ok e la guida è aperta vabbè davanti non ve lo sto a spiegare dietro come potete vedere una nuova regione da esplorare in una nuova dimensione guida passo passo vivi al meglio la tua esperienza di gioco grazie a immagini, mappe dettagliate e consigli strategici all'interno troverai una guida approfondita su come ottenere le medaglie e varcare la sala d'onore spero ci vediate informazioni dettagliate sulle nuove tecniche e funzioni di gioco dalla lotta aerea alla lotta con un gruppo dal super allenamento virtuale al poké io e te indicazioni su dove trovare strumenti nascosti e pokémon speciali e un'apposita tabella per individuare tutte le macchine tecniche e le macchine nascoste suggerimenti su come usare al meglio i pattini, cavalcare pokémon e affrontare i capipalestra consigli utili e trucchi per sfruttare al meglio il PSS e il gioco online una mappa per orientarti attraverso la regione di calo su una tabella aggiornata sulle compatibilità di tipo comprendente il nuovo tipo folletto ok, allora occhio mi raccomando che sicuramente adesso vi farò vedere qualcosa e ci sarà qualche spoiler quindi insomma se qualcuno lo sta giocando e non vuole assolutamente vedere cose strane ok, lo scorrò abbastanza rapidamente però comunque insomma non si sa mai io vi ho avvertito indice, vedrete un po' in piccolo, mi scuso ma d'altra parte non ci può sempre indice, la mappa della regione, il percorso consigliato, il rapporto tra tipi di pokémon e tipi di mosse poi c'è il manuale dell'allenatore con gli obiettivi del gioco, le lotte, come ottenere i pokémon, la banca pokémon funzioni di gioco e di comunicazione, eccetera eccetera l'avventura passo a passo, quindi questa è tutta l'avventura che non vi sto a dire perché ovviamente contiene degli spoiler comunque percorso 12, percorso 13, 14, insomma tutto informazioni utili come poke, io e te super allenamento virtuale, orto delle bacche, bacca bar, eccetera eccetera ristoranti ricerca veloce, scusate, in ordine alfabetico e qua abbiamo appunto la possibilità di cercare direttamente quello che vogliamo ecco la mappa il percorso consigliato e via discorrendo il manuale dell'allenatore, come dicevamo prima cavalca i pokémon, i pattini, gli obiettivi del gioco, le novità il poke, io e te eccetera eccetera nuove funzioni che sfruttano il touch screen insomma è una guida bella corposetta ovviamente, insomma e andiamo avanti, adesso qui c'è tutta la guida come potete vedere vi faccio vedere qualche, vedete il percorso scusate per gli spoiler ma vi ho avvertito prima vedete percorso 4, via le parterre la mappa e tutto quello che potete trovare e i pokémon e sono tutti così rotta dei baglioni, come potete vedere dei personaggi che probabilmente incontreremo eccetera eccetera andiamo avanti qui abbiamo un'altra parte di un altro colore che presumo sia sempre comunque vedete qua per esempio la palestra di Fluxopoli e qui probabilmente ci spiega un po' non so se faccia parte dell'avventura ancora oppure no scusate come ripeto io lo sto giocando ho iniziato a giocarlo quindi insomma prendete le informazioni per quello che sono quindi io l'ho presa apposta questa per capirci per aiutarmi ecco a capirci qualcosa ok andiamo avanti la palestra di Fractalopoli eccetera eccetera ok lega pokémon pokéio e te superenamente virtuale insomma una bella guida sono in totale 288 pagine vabbè facciamo 287 effettive quindi è una bella guida corposetta insomma mi sembra molto valida adesso andiamo a vedere il pokédex il pokédex lo apriamo ancora una volta si ho un taglialino in mano però già che ho trovato un buco nel cellophane non sto qua a usarlo eccolo qua allora pokédex pokémon x e pokémon y pokédex ufficiale della regione di kalos e guida l'avventura dopo la storia principale questa è bella grossa è ancora più grosso come potete vedere ancora più spesso della guida vedete è quasi quasi doppio guardiamolo dietro scopri tutto sui pokémon come affine le tue abilità una volta che avrai patronneggiato le meccaniche di base questa guida ti fornirà i consigli avanzati i trucchi di cui hai bisogno per trovare i pokémon lottare con loro e catturarli ti spiegherà inoltre come sfruttare al meglio le nuove straordinarie funzioni di pokémon x e pokémon y vuoi formare una squadra di pokémon per dimostrare a tutti la tua abilità e in entusiasmanti sfide online oppure sei alla ricerca di strumenti per potenziare le mosse dei tuoi pokémon questo volume ti fornirà le informazioni necessarie per portare la tua avventura a un livello superiore ed esplorare il gioco in ogni sua dimensione all'interno troverai i dati di più di 450 pokémon appartenenti ai pokémon di calos scusate ai pokédex calos centrale, costiera e montana informazioni essenziali su mosse, abilità, statistiche, evoluzioni, habitat di ogni pokémon preziosi consigli per le avventure che ti attendono dopo l'ingresso nella sala d'onore una guida dettagliata sulle uova di pokémon su come usare i poker radar e come trovare tutti i pokémon della regione di calos una lista esistiva di bacche, mt, mn, megapietre e strumenti completa di indicazioni su come ottenerli informazioni essenziali per trovare i pokémon speciali compreso un indice dei luoghi in cui incontrarli quindi abbiamo una guida praticamente su tutti i pokémon ok, allora andiamo a vederla vedete, abbiamo un indice l'avventura dopo l'ingresso nella sala d'onore la pokémon della regione di calos nella regione di calos costiera e montana abbiamo un indice alfabetico la mappa della regione di calos e qua appunto c'è sempre il percorso consigliato e qua parte l'avventura dopo l'ingresso nella sala d'onore e quindi qua ci spiega più o meno è sempre ovviamente il lo stile è sempre lo stesso della guida che abbiamo appena visto della guida alla storia principale ovviamente quindi segue quelle linee con la differenza che si concentra molto di più sui pokémon scorriamo brevemente vedete ecco qua qui entriamo nel nel dino con tutti i pokémon vedete tutte le abilità davvero c'è la perdersi la testa come dicevo prima non mi sono mai avvicinato alla serie ma so ed è appunto confermato da queste immagini che è un gioco davvero molto complesso e profondo come possiamo vedere abbiamo statistiche e dati all'infinito quindi urbasaur uno dei più famosi eccoli qua le sue varie evoluzioni charmander e via andiamo avanti insomma vabbè è tutto così quindi più o meno comunque sono guardate sono pagina praticamente 200 e sono ci sono tutti i pokémon guardate sì 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 proprio arriviamo fino a pagina 308 con gli ultimi pokémon che non vi faccio vedere mossa di pokémon qui abbiamo tutte le mosse quindi vi faccio vedere da vicino mossa si mette a fuoco no eh ecco qua vedete mossa tipo categoria potenza eccetera eccetera raggio e l'effetto ok strumenti e non so cosa siano sinceramente perché ripeto sono ignoranti in materia non avendolo mai giocato prima ed essendo all'inizio quindi me lo guarderò per bene mentre faccio l'avventura per così come guida per aiutarmi appunto a a scoprire bene 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 tutto bene ragazzi ben grazie per aver visto questo video anche se comunque sono sicuramente delle cose uscite da parecchio tempo però comunque ci tenevo a così a condividere con voi questo questo acquisto questo unboxing e magari chi lo sa se non avete avuto occasione di di vederle prima magari ecco è stata un'occasione questa anche utile bene grazie mille per aver visto questo video e alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti